Ciao a tutti diavoletti, lasciate un mi piace per vedere Anto 3, 2, 1 Scusami, ciao a tutti diavoletti Adesso siamo tutti insieme, siamo tutti insieme Ciao diavoletti Ok, ciao Ok, Giada, ciao Giada Saluta Giada Ok, adesso cosa dobbiamo fare? Ehm, dobbiamo guardare un bel film insieme Vinci, voglio fare un pigiama party, voglio fare un pigiama party Sì, siamo proprio in tema, pigiama party Sì, è bello Lasciatemi parlare Lasciatemi parlare Dimmi Vi stavo dicendo che è perfetto fare un pigiama party perché sapete che ore sono? Che ore sono? È molto tardi Vediamo Controlla col tuo telefono Controllate Il mio sfondo è cambiato Il tuo sfondo è cambiato? Guardate diavoletti, questo è il telefono della mamma di Vinci E perché c'è questo sfondo dei Rainbow Friends? Non lo so, ma questo sfondo è molto spaventoso Lo hai messo tu? No, io no Io no L'hai messo tu? No Diavoletti, questo è il telefono della mamma di Vinci E sono l'1.53 di notte Oh sì, perfetto per un pigiama party Io sto pensando chi ha messo la foto dei Rainbow Friends sul telefono di sua... Forse tu No, tu sei stata... No, io no No, io sto pensando invece chi è stato a mettere tutte queste foto... Al muro Diavoletti Diavoletti Chi è stato a mettere tutte queste foto? Guardate Sul muro Chi è rappresentato qui? Cosa? Tutti i Rainbow Friends Proprio come lo sfondo del cellulare di mamma, quindi... Diavoletti, ci sono tutte le foto? Guarda Vinci, guarda Il mostro blu, il mostro arancione, arancione Il mostro verde Arancione Guarda, guarda Ancora? Ci sono anche i cuscini I cuscini dei mostri di Rainbow Friends Il mostro verde, il mostro blu e il mostro arancione Cosa ci fanno i cuscini dei mostri su questo divano? Ok, sembra che qui qualcuno prima di noi abbia già pensato di fare un pigiama party Vinci, guarda È molto strano, è molto strano, perché ci sono le foto dei Rainbow Friends in casa nostra? Non lo so È proprio il mostro blu dei Rainbow Friends Vinci Oh, cosa sta succedendo qui? Io ho molta paura Oh, ho molta paura, guarda Ci sono foto dappertutto, ci sono foto dappertutto Sì, sono proprio dappertutto Cosa? Cosa sono questi tre biscotti? Ok, avete già preparato un party senza avvisarmi? No, noi non abbiamo preparato nulla Ok, allora cosa succede qui? Perché sembra che qui stia succedendo qualcosa di molto spaventoso Diavoletti Cosa è successo e perché ci sono questi tre biscotti qui? Questo sembra essere il biscotto del mostro blu Il mostro verde e il mostro arancione È un po' sbriciolato Diavoletti Diavoletti Proprio i mostri che sono rappresentati su questo muro, guardate Il mostro blu, il mostro arancione Vinci, vieni qui, vieni qui Ho trovato qualcosa Questo sembra essere il diario dei Rainbow Friends Eh sì, secondo voi dobbiamo aprirlo? Sì, aprirlo No Sì Secondo me no Vediamo Secondo me è un diario segreto Infatti Fai leggere i segreti dei mostri di Rainbow Friends Cosa sta scritto? Questo è il diario dei Rainbow Friends Ok, arriva il punto Mangiate questi tre biscotti per iniziare a giocare Con i Rainbow Friends? Vinci, cosa succede? Ehi, cosa sta succedendo? Vinci, perché la tv sta glitchando? Non lo so Sì Per iniziare il gioco dei vostri dovete mangiare i tre biscotti Arancione, verde e blu Cosa? Mangiate i biscotti Attenzione, succederà qualcosa di brutto State attenti Cosa? Vinci? Hai sentito? Certo Quello era il mostro rosso? Che cosa sta succedendo? Qualcosa di molto spaventoso Perché il mostro rosso ha detto che noi dobbiamo mangiare questi tre biscotti Ma dopo aver mangiato questi tre biscotti Succederà qualcosa di brutto Quindi Cosa? È incorrente Cosa succederà? Cosa? Secondo te? Non lo so Ma una cosa la so di certo Che questi biscotti non devono essere toccati Non possiamo mangiare questi biscotti Quindi dimenticatevi di questi biscotti No Vinci Noi dobbiamo mangiare questi biscotti Perché io voglio far finire questo pigiama party Noi non possiamo mettere le nostre mani su quei biscotti Ma Vinci no Non toccare i biscotti Vinci non toccare questi biscotti Dobbiamo nascondere questi biscotti Anzi Dobbiamo nasconderli per sempre Vinci Dammi subito questi biscotti E tu cosa pensi? Secondo te dobbiamo mangiare i biscotti? Dammeli dai 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 Diavoletti Io e la mamma di Vinci Vogliamo mangiare questi biscotti Perché? Questi biscotti non possono essere mangiati Perché avete sentito il mostro rosso Dopo ci succederà qualcosa di brutto Ma il mostro rosso ha detto che Noi dobbiamo mangiare quei biscotti Eh sì Avete sentito tutti il mostro rosso Anche tu Ok Quindi Vinci mangiamo i biscotti Non nasconderli Non possiamo mangiare questi biscotti Vinci Dammi i biscotti Sul serio avete intenzione di mangiare questi biscotti? Sì Sì Bene Prima voi Allora Il mostro blu Anto Diavoletti Io mangerò il biscotto del mostro blu Mamma tocca a te con il mostro verde Tu il mostro verde? Wow E a me tocca Io mangerò il biscotto del mostro blu La mamma di Vinci Verde E io Siete ancora così sicuri? Possiamo ancora cambiare idea Ok Tocca a me diavoletti Adesso mangio il mio biscotto È una pessima idea Secondo te devo farlo? Secondo me no Diavoletti Secondo voi devo mangiare il biscotto del mostro blu? Secondo me non dobbiamo mangiare questi biscotti Potrebbe succedere qualcosa di brutto Vinci Io lo mangio Io lo mangio Cosa? Hai appena fatto Vinci mi sento Mi sento molto strano Anto cosa ti succede? Vinci? Cosa è successo alla mia faccia? La tua faccia è blu Cosa? Aspetta Proprio come il mostro blu guarda Diavoletti Perché la mia faccia è blu? La tua faccia è diventata blu dopo aver mangiato quel biscotto blu Vinci Adesso anche voi dovete mangiare quel biscotto Mangia il biscotto verde Cosa? La mamma di Vinci ha mangiato il biscotto verde? Adesso cosa? La mamma di Vinci ha la faccia verde La tua faccia è diventata verde Ok Vinci adesso tocca a te Cosa sta succedendo qui? Devi mangiare il biscotto del mostro arancione E se io avessi cambiato idea? Vinci? No non hai cambiato idea perché io ho già la faccia del mostro blu Quindi non puoi cambiare idea Infatti sembrate molto diversi ma io non voglio avere la faccia arancione Dai Dai muoviti Mangia Ma io l'ho detto sin dall'inizio che questa sarebbe stata una pessima idea Quindi risparmiatevi Muoviti Muoviti Guarda la nostra faccia E adesso anche tu devi diventare uno di noi Il mostro dei Rainbow Friends Chissà cosa succederà Vinci hai mangiato? Cosa succede? Vinci Adesso ha la faccia arancione Ok Ok facciamoci una foto Mostro blu Mostro arancione E mostro verde Ok Ok basta Adesso non è divertente Sembra un gioco ma non lo è perché noi abbiamo la faccia dei mostri di Rainbow Friends Sì abbiamo proprio la faccia dei mostri di Rainbow Friends Cioè muoviti come il mostro verde Vai muoviti come il vostro verde Proprio il mostro verde A me manca solo la corona E a me manca soltanto una coda con i denti a guzzi Vinci dai basta Ok diavoletti Noi siamo in questa casa molto spaventosa Guardate ci sono foto dei Rainbow Friends dappertutto E questi siamo proprio noi Il mostro verde Mamma Il mostro arancione Io E tu Il mostro blu Ok Ma cosa significa tutto questo Cosa significa tutto questo Non riesco proprio a capire cosa sta succedendo qui Cosa sta succedendo Vinci Aggiornamenti Guardate Avete mangiato il biscotto dei nostri Adesso i nostri Vi seguiranno Il mostro blu Il mostro verde E il mostro arancione sono qui Dentro questa casa Per uscire da questo gioco Dovete compratare delle sfide La prima sfida è Trovare i cubi mancanti sulla tavola Sono nascosti per la cazza Attenzione ai mostri Vinci hai sentito? Certo Vinci I mostri stanno arrivando Li senti? Sì Sono proprio qui in casa nostra Sono sul soffitto Sono sul soffitto Oh i mostri sono proprio quassù Sì I mostri stanno arrivando Hai sentito il mostro rosso? Sì Tutti abbiamo sentito il mostro rosso Ok la prima sfida è Proprio qui Trovare i cubi mancanti su questa tavola? Oh aspetta guardate Vicino ai cubi c'è un numero Ok Mancano Vinci dobbiamo sbrigarci Dobbiamo sbrigarci C'è proprio un numero guarda Ok 10, 4, 8, 6 E mancano questi numeri Sì I cubi con questi numeri non ci sono Noi dobbiamo trovare questi cubi Con questi numeri e rimetterli su queste caselle Ok Vinci allora Questo è il numero 4 E noi dobbiamo trovare il numero 1, 3 e 9 Esatto Proprio quelli che mancano qui Anto non ci sono Non ci sono 5, 7, 10, 8, 4, 6, 2 Oh Mancano proprio Questi sono quelli mancanti Dove sta? Aspettate c'è un dettaglio che forse non avete notato I numeri mancanti sono proprio gli stessi colori delle nostre facce Cioè gli stessi colori dei tre mostri di Rainbow Friends Il mostro blu Il mostro verde Arancione Ok Vinci quindi io sono il mostro blu E devo andare a cercare il cubo numero 1 Esatto Io il mostro verde e devo cercare il numero 9 Sì il numero 9 Quindi andiamo a cercare il cubo numero 1 Ma attenzione Dobbiamo fare molta attenzione Perché abbiamo sentito tutti il mostro rosso E il mostro rosso ha detto che adesso qui in questa casa ci sono i mostri di Rainbow Friends Che non devono assolutamente vederci Stiamo cercando i nostri cubi Eh sì diavoletti Qui dentro dentro questa casa ci sono i mostri di Rainbow Friends Quindi facciamo molta attenzione anche mentre cerchiamo questi cubi colorati Perché il mostro di Rainbow Friends forse il mostro blu potrebbe rapirti Così Ok basta basta Vinci io vado a cercare il cubo numero 1 ok Ricorda molta attenzione Occhi ben aperti diavoletti voi guardateci le spalle perché uno di questi tre mostri potrebbe rapirci Ok diavoletti Voi allora tu Giussi vai a cercare il numero 9 E tu devi andare a cercare il numero 3 Ok inizio Vai vai Vinci cerca vai Giussi Cerca cerca Ok Giussi e Vinci stanno cercando Dobbiamo uscire da qui dobbiamo uscire da qui quindi cercate bene ok Sì io non vedo il numero 3 da nessuna parte forse sotto il tappeto No non c'è niente Ok diavoletti dobbiamo Oh tu sai dove è il cubo numero 1 no? Ok dobbiamo uscire da questa casa e se vogliamo uscire da questa casa dobbiamo completare la sfida Io devo trovare il cubo numero 1 Cosa? Il mostro blu Diavoletti Giussi Nasconditi nasconditi qui qui dietro ok qui stai bene Giussi ho visto il mostro blu Dove? Ho sentito bene avete detto un mostro blu? Sì abbiamo visto il mostro blu Dove? Guardate diavoletti il mostro blu è proprio lì Dobbiamo stare molto attenti noi non dobbiamo farci mangiare Ehi Giussi così ti vede Diavoletti dobbiamo stare molto attenti il mostro blu è lì e ci sta cercando Il primo passo è fare silenzio perché il mostro blu potrebbe sentirci quindi Il mostro blu ci sta cercando Oh che paura Ok dobbiamo stare zitti non dobbiamo farci sentire Devo cercare il cubo numero 1 Diavoletti Il mostro blu è andato via Dove si trova il cubo numero 1? Diavoletti Secondo voi devo entrare in questa stanza? Il mio cubo è di colore blu Quindi entriamo in questa stanza Magari si nasconde il cubo E speriamo di non vedere il mostro blu Cosa? Scusami Torno indietro Diavoletti Il mostro blu è qui? Ok chiudiamo la porta Ok ho chiuso la porta Adesso sta dando dei colpi Giù di Vinci allarme Allarme Venite venite Vinci Vieni qui Vinci Il mostro blu è proprio dentro questa stanza Sentite? Senti il mostro blu? Sta dando dei colpi Sì Ok Adesso noi scappiamo Diavoletti il mostro blu voleva mangiarmi? Io non devo farmi prendere Ok Vinci non pensiamoci Non pensiamoci La nostra missione è sopravvivere fino alla fine Eh sì sopravvivere ai mostri che adesso Vinci Il mostro blu si trova proprio qui dentro Vinci Guarda Qui vedo qualcosa di molto strano Ok Analizziamo Che cos'è? Diavoletti Questo è Il numero uno Il cubo numero uno? Se l'hai fatta Era proprio vicino alla porta Ok rimettilo sulla casella Corri Corri Corriamo diavoletti Corriamo Numero uno Mettiamo il cubo numero uno sulla casella Tre Due Uno Cosa? Diavoletti Ho messo il cubo numero uno sulla casella Avete sentito il suono? Ok Siamo alla ricerca del numero nove Quello verde? Giuse hai trovato qualcosa nei fiori? No Non c'è niente No Non c'è il cubo numero nove Dobbiamo cambiare Dobbiamo Giuse Sotto il cuscino del mostro verde? Vedi qualcosa? No Non c'è niente Ok Dove possiamo cercare? Qui dentro Qui dentro Giuse Giuse Mostro verde deve cercare il cubo numero nove Niente Giuse Cosa hai visto? Nel cestino della spazzatura? Hai trovato il cubo numero nove? Ottimo lavoro Ok Fallo vedere Fallo vedere Ok guardate Questo è proprio il cubo numero nove Che adesso rimetteremo su questa casella Vai Ok diavoletti Ce l'abbiamo fatta Vinci Il mostro verde è dietro di te Giuse Giuse Il mostro verde è dietro di te Devi scappare Devi scappare Cosa? È andato via? Sì Il mostro verde non è più qui Ok Per un momento abbiamo visto tutti quanti Il mostro verde Abbiamo avuto tantissima paura Vero? Ok Ok ma adesso sembra finita ma non lo è Perché guardate manca il cubo numero tre Manca il cubo numero tre? Io sono veramente stanco Vinci Ehi Vinci Devi cercare il cubo numero tre Sbrigati Ok dove sarà mai il cubo numero tre? Sotto questa tavola? Controlliamo Vinci Dobbiamo sbrigarci Il mostro blu Il mostro verde sono qui Beh voi cosa ci fate gli imparate? Aiutatemi Ehi Hop Cerca anche tu Giuse Hai visto qualcosa? No Vinci Potresti aiutarmi? Dobbiamo trovare il cubo numero tre Oh Hai visto il cubo numero tre da qualche parte? Eh? Hop dove stai andando? Cosa? Il nostro cagnolino sta andando? In una stanza? Ehi Hop Hai visto qualcosa lì dentro? Eh? Hop dove vai? Sta cercando di aprire questa porta Ok aiuto il nostro cagnolino Diavoletti forse il nostro cagnolino ha visto qualcosa? Vinci Si direte in questa stanza? Entriamo entriamo Non è che c'è un mostro qui dentro? Oh cosa hai visto qui dentro? Cosa? Vinci perché il nostro cagnolino è entrato in questa stanza cioè nel bagno? Non lo so ma io in questa stanza vedo qualcosa di molto familiare Cosa vedi in questa stanza? Sotto il water c'è un cubo? Si tratta del cubo numero tre Vinci hai trovato il tuo cubo Grazie al nostro cagnolino Si dobbiamo ringraziare il nostro cagnolino Si è stato molto d'aiuto Ok Ringrazia anche tu il nostro cagnolino Ok Vinci sbrigati sbrigati Cosa? Hai messo il cubo numero tre? Vinci Cosa? Chi ha spento le luci? Ok Giusy chi ha spento la luce? Tu Sul divano Vinci cosa vedi? Il mostro arancione sul divano Cosa? Il mostro arancione? Sta saltellando su quel divano Vinci ho veramente molta paura Non è che ci mangia? Non è che ci mangia? Ok tutto questo perché abbiamo messo tutti e tre i cubi Su queste apposite caselle Quindi adesso i mostri sono qui Oh Vinci è sparito Il mostro arancione è sparito Vinci la tv la tv Buon alento Ok cosa succede? Cosa succede? Silenzio Io non voglio essere mangiato Ascoltiamo Ascoltiamo Oh dai Grazie Avete trovato i cubi volcanti Adesso dovete riuscire a trovare la corona del mostro blu È molto rare e mi nascosta molto bene Riuscite a trovare la corona Cosa? Dobbiamo trovare la corona del mostro blu? Chi ha acceso le luci? Le luci si sono accese all'improvviso Chi è stato? Tu No non sono stato io Ok Diavoletti Avete sentito il mostro rosso? Sì Ha detto che adesso dobbiamo metterci alla ricerca della corona del mostro blu È che è molto difficile da trovare perché la corona è nascosta molto bene Ok Che sfida è? Diavoletti dobbiamo trovare la corona del mostro blu? Bene io so dove si nasconde la corona del mostro blu Dove si nasconde la corona del mostro blu? In questi fiori blu No Vinci non c'è niente in questi fiori Soltanto fiori profumano Vinci no non c'è niente in questi fiori Ok Diavoletti avete sentito il mostro rosso? Ha detto che qui c'è una corona? La corona rara del mostro blu? Il mostro rosso ci parla proprio da questa tv gigante Ok Giusy hai visto la corona? Forse sarà qui Forse dietro il cuscino del mostro blu? Vedi? No Non c'è Allora Giusy vieni qui Vinci venite qui Dobbiamo fare un gioco di squadra Ok? No Vinci non c'è niente dietro il cuscino Diavoletti dobbiamo stare molto attenti Voi sapete? Sapete vero che qui ci sono i mostri? E i mostri potrebbero mangiarvi Dovete stare molto attenti Ok ben aperti Ma adesso pensiamo Dove potrebbe nascondersi la corona del mostro blu? Ci sono Vieni Tu dici che è dietro questo quadro? Vinci Attenzione No non c'è niente dietro questo quadro Rimettilo Dobbiamo rimettere questo quadro a posto Non c'è niente ok Il mostro blu potrebbe venire e potrebbe mangiarci Ok dove si nasconde la corona del mostro blu? Vinci il mostro blu? Cosa vuole? Giusy Mostro blu? Cosa vuoi da noi? Vai via Diavoletti Perché il mostro blu ci sta fissando? Vai via da qui Oh no Ci ha trovati? Ehi mostro blu cosa vuoi? Ha spento le luci? Oh no Diavoletti si sta avvicinando? Il mostro blu si sta avvicinando Giusy nasconditi Nasconditi Ok Lì il mostro blu non ti vedrà Stai bene Vinci vai a nasconderti Vai a nasconderti Adesso devo nascondermi io Devo nascondermi io E anche in fretta perché il mostro blu si sta avvicinando Corri Ok è arrivato il momento di nascondermi Oh Ehi Mostro blu quando vai via? Hop Attenzione Attenzione Ok È andato via Vinci il mostro blu è andato via Cosa ma io avevo intenzione di prendere la corona dalla testa del mostro blu e portarla al mostro rosso così avremmo completato questa missione Invece non è andata come volevo Chi ha acceso le luci? Quindi tu volevi rubare la corona del mostro blu? Sì Dalla sua testa Esatto perché noi dobbiamo trovare la corona del mostro blu questo sarebbe stato il momento perfetto Volevi rubare la corona dalla sua testa? È impossibile Ok quindi adesso dobbiamo cercare la corona del mostro blu ma dove si nasconde? Non lo so Vinci dove si nasconde la corona del mostro blu? O forse in questi cubi? No Vinci in questi cubi non c'è niente In questo più grande niente Niente di niente Niente Vinci Vinci qualcosa di strano Venite venite Avviciniamoci Diavoletti Guardate Questa è tipo una cassaforte E lì ci sono delle X molto sospetto Sì perché ci sono delle X qui? Vinci qui dentro si nasconde la corona Qualcosa di molto prezioso sembra essere qualcosa di molto prezioso È la corona Vinci Qui dentro Dentro questa cassaforte che non si può aprire c'è una corona Dammi Vinci Non si apre Questa cassaforte è bloccata Vinci No Vinci È impossibile aprire questa cassaforte Provaci Non ci riesci? No Oh no diavoletti Questa cassaforte è bloccata E dentro c'è la corona del mostro blu Ok Dobbiamo trovare un metodo per Perché ci sono delle X qui? Forse dobbiamo indovin... Aspetta aspetta Un codice No Vinci Secondo me no No Diavoletti Forse Ho capito Ho capito Di cosa si tratta? Venite con me Venite con me Vieni Vinci Ok Devo aprire questa porta Aspetta Sicuro che lì dietro non ci sia il mostro blu? Oppure ci potrebbe essere il mostro verde o il mostro arancione che potrebbe mangiarci Attenzione Ok Non è divertente Qualche mostro? No nessuno Via libera Via libera Ok Diavoletti dobbiamo stare molto attenti Cosa c'entrano quelle X? Vinci Guarda Qui ho trovato qualcosa prima Un oggetto molto strano Sembra essere un oggetto molto raro ma Cosa si nasconde? Guarda Qui dentro ci sono questi tre aggeggi molto strani A cosa servirebbero questi aggeggi? Non lo so Allora Vinci Secondo me Questo arancione è tuo Tieni Questo verde è di Juicy E questo blu è mio Ok ma cosa dobbiamo farcene di questi aggeggini molto strani? Vinci Attenzione Potresti farmi male Perché a cosa servono? Allora Juicy ha quello verde Io quello del mostro blu blu E io questo arancione? Sì Questo arancione Secondo me questi aggeggi ci serviranno per aprire quella cassaforte Allora corriamo Cosa aspetti? Corriamo Corriamo Secondo voi diavoletti riusciremo ad aprire la cassaforte? Sì Riusciremo ad aprire quella cassaforte Speriamo Con questi cosi Allora la prima persona che deve provare è il mostro arancione Tocca a me Tocca a me Ok vai Disegna una X Cos'è questo suono? Cosa? La X è diventata rossa? Come se fosse stata completata Vinci Adesso tocca a me Il mostro blu Ok Dov'è? Ecco fatto Ecco fatto Guarda Guarda Cosa? Un'altra X rossa Completato? Manca il verde Adesso docca a me Secondo voi diavoletti Appena la mamma di Vinci completerà questa X La X del mostro verde Diventerà rossa e quindi questa cassaforte si aprirà una volta per tutte Oh speriamo Cerchiamo di aprirla in questo modo No Vinci non si apre questa cassaforte non si apre Molto dura Sì Cosa? Vinci è diventata rossa? Aspetta Oh cos'è questo suono? Si è sbattato Cosa? Qualcosa Si è aperta La cassaforte si è aperta E adesso? Nelle nostre mani? C'è la corona? Abbiamo trovato la corona del mostro blu Ma il mostro blu è qui Mostro blu? Noi abbiamo trovato la tua corona Ma almeno non l'abbiamo presa dalla tua testa Quindi puoi lasciarci in pace? Si lasciaci in pace Lasciaci in pace per favore Oh è andato via? Ok Ok Anto ma visto che tu adesso hai tutta la faccia blu Devo mettermi la corona? Si certo l'accessorio finale altrimenti che il mostro blu sei Che onore Dai mettimi la corona Wow Sono il mostro blu Adesso si che sei proprio Adesso si che sei proprio il mostro blu Non credi? Si Sono diventato il mostro blu Vinci cosa succede? Diavoletti Guardate Perché la tv sta glitchando? Non lo so Grazie a tutti Avete trovato la corona del mostro blu I mostri si stanno arrabbiando Attenzione a non farvi mangiare Se vi mangiano Verrete eliminati La terza sfida È riuscire a preparare la torta dei Rainbow Friends Attenzione Dovete entrare nel laboratorio del mostro rosso Non fatevi prendere Ok Vinci dobbiamo preparare la torta dei Rainbow Friends Si questo è un punto molto strano perché noi non abbiamo mai preparato la torta dei Rainbow Friends Ma c'è un altro punto ancora più spaventoso Che è per preparare la torta dei Rainbow Friends Il mostro rosso ha detto che dobbiamo entrare nel suo laboratorio Vinci Noi dobbiamo entrare nel laboratorio del mostro rosso? Questo è proprio il laboratorio del mostro rosso Si Proprio qui È qui che prepara tutte le pozioni È qui che il mostro rosso prepara i suoi esperimenti Vinci Io ho molta paura Ho molta paura Non voglio entrare nel laboratorio del mostro rosso Io almeno No Ok quindi restiamo qui e aspettiamo che i mostri ci rapiscano Vinci Bene Hai sentito? I mostri si stanno arrabbiando Lo so Vinci Ma Chi è? Che sta chiamando? Dobbiamo rispondere? No Ok Diavoletti Rispondiamo Chi è? Hai sentito? Sono il mostro blu sto arrivando Cosa? Ok Vinci Il mostro blu sta arrivando Il mostro blu sta arrivando Senti? Sentite sta arrivando il mostro blu sta arrivando È proprio qui È proprio qui Quindi noi dobbiamo entrare in questo laboratorio Nel laboratorio del mostro rosso È l'unica via d'uscita Ok Vinci Vieni vieni chiudiamo la porta Il mostro blu sta per arrivare Ma qui saremo il sicuro Ok Siamo entrati nel laboratorio del mostro Vinci 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 Questo è il laboratorio del mostro rosso Qui ci sono i suoi esperimenti Dove conduce i suoi esperimenti malefici Vinci Ok Siamo entrati nel laboratorio del mostro rosso Guarda Il mostro rosso fa tantissimi esperimenti Con le sue provette Sono proprio qui Guardate Queste sono delle provette Oh Vinci Guarda Prepara tantissime pozioni Oh qui c'è il mostro giallo Ciao mostro giallo Forse sta conducendo un esperimento sul mostro giallo Perché il mostro rosso è molto malefico È molto soffetto Vinci Non dire queste cose del mostro rosso Hai detto che è malefico Ok Non devo dire Perché guarda È proprio lì Mostro rosso Non intendevo che sei malefico Intendevo solamente che questa stanza è un po' malefica Dai mostro rosso Puoi andare via È andato via Ok Ok meno male Ok Vinci Cosa dobbiamo fare Cosa dobbiamo fare La sfida è La torta dei Rainbow Friends Ok La terza sfida è Preparare la torta dei Rainbow Friends Sì Dobbiamo preparare la torta Ma come si prepara la torta dei Rainbow Friends? Con degli ingredienti Ma qui non vedo nessun ingrediente Se non provette Vinci Guarda Qui c'è un foglio Metti tutti gli ingredienti Nel frullatore Frulla tutto Apparirà la torta dei Rainbow Friends Ok quindi Guarda Qui c'è la torta dei Rainbow Friends Wow Ok Vinci se vogliamo uscire Vinci se vogliamo uscire da questo gioco Dobbiamo preparare la torta dei Rainbow Friends Frullando queste provette Sì Queste sono provette Guarda Sarebbero gli ingredienti Sì E questa È quella del mostro blu Questa del mostro verde E questa del mostro arancione Qui c'è il frullatore Quindi questi tre ingredienti prepareranno come per magia la torta dei Rainbow Friends? Sì Ok Vinci Iniziamo? Vabbè Ma c'è un problema Vinci c'è un problema Il frullatore è scarico? Sì È a un per cento Non ha batteria Dobbiamo trovare la batteria? Ok Io ne ho abbastanza Già mi sento Chi è che sta bussando? Vinci Tenete la porta in questo modo Mentre io cerco la batteria Ok? Ok Diavoletti guardate Giussi e Vinci stanno Trattenendo la porta Eh sì Perché il mostro Qualche mostro che è qui fuori Vuole entrare Secondo me Vuole entrare qui dentro E vuole mangiarci Perché i mostri si stanno arrabbiando Non smettila Ok Devo cercare la batteria Sennò come facciamo a preparare? La torta dei Rainbow Friends Ok Devo cercare la batteria Di questo frullatore Allora Dov'è la batteria? No Qui ci sono Altre pozioni Altre pozioni Diavoletti Questo che cos'è? Sembra essere un oggetto Del Laboratorio Ok Non ci serve Diavoletti Vedete la batteria? Questo è il laboratorio Del mostro rosso Oh la la Altri rumori Stanno diventando sempre più forti Perché qui fuori adesso C'è più di un mostro Tutti e tre i mostri di Rainbow Friends Quello arancione Quello verde E quello blu Michi Attenzione Ok Giù si vai Mantieni la porta Sì Dobbiamo stare molto attenti I mostri di Rainbow Friends Potrebbero rompere la porta Spiegati E potrebbero eliminarci Ok Dov'è la batteria? Ehi batteria dove sei? Guardate questi piatti Questi piatti sono i piatti di Rainbow Friends Ok Ehi mostro rosso Mostro rosso Dov'è? Dov'è la batteria? Noi dobbiamo accendere quel frullatore Il frullatore? Dov'è la tua batteria? Ok Dobbiamo stare molto attenti Forse è qui dentro? Non vedo niente Voi vedete qualcosa? Ma sbrigati Sono sempre più forti Sbrigati Mi sto sbrigando Ok Diavoletti mi stanno mettendo ansia I mostri sono qui fuori E vogliono entrare nel laboratorio Ok Forse No qui dentro No no Qui dentro? Vinci Ho trovato qualcosa Qui dentro Spero siano le batterie Sì È la batteria Ok Vinci Ho trovato la batteria Ok sono andati via Mettiamo la batteria nel frullatore Ok Inseriamo questa batteria Ok Vinci Inserisco questa batteria Ok Ho inserito la batteria Cosa succederà? Dovrebbe aumentare Vinci È aumentata La batteria Adesso è molto alta Al 100% E vai Ce l'abbiamo fatta Ok È stata molto dura Ma ce l'abbiamo fatta Adesso non ci resta altro Che inserire questi ingredienti E la torta sarà pronta Come per magia Ok Vinci Dobbiamo inserire questi ingredienti Nel frullatore E poi dobbiamo frullare tutto E la torta sarà pronta Sì La torta dei Rainbow Friends Ok iniziamo Allora Inizia Inizia il mostro verde Vai Qui dentro Diamoletti Ha messo il suo primo ingrediente Ok Diamoletti Adesso non ci resta altro Che inserire questo primo ingrediente Nel frullatore Ok 3 2 1 Ecco fatto La mamma di Vinci Ha messo il primo ingrediente Tocca a me Tocca a te Mostro blu Ok Quello del mostro blu Diavoletti Appena completeremo questo Passaggio La torta comparirà come per magia Ok Vinci Ho messo tutto il liquido blu Adesso Metteremo il liquido blu Qui dentro Ecco fatto Cosa succede? Diamoletti Guardate Sta succedendo qualcosa Sì Manca il liquido del mostro arancione Manca proprio la provetta del mostro arancione Aspetta Vai Vai Vinci Mettila Vinci attenzione Ok Sta mettendo il liquido Che adesso deve essere messo nel frullatore Vai Vinci Vai Vinci Metti nel frullatore l'ultimo liquido Adesso dobbiamo frullare Vinci Che Vinci Adesso dobbiamo far frullare gli ingredienti Inserendo la spina Ok dov'è la spina? Diavoletti dobbiamo sbrigarci Dobbiamo sbrigarci Ok Diavoletti dobbiamo stare molto attenti Io non voglio essere eliminato da qualche mostro Tanto ho trovato una spina Vai metti metti Ok Vinci ha trovato una spina Adesso State frullando? Cosa succede? Vinci? Questo rumore è davvero molto Si è spento? Perché c'è tutto questo fumo? Sembra stia succedendo qualcosa lì dentro C'è tutto questo fumo? Cosa? È uscita la torta? È spuntata la torta dal nulla? Come per magia? Questo è un esperimento che ha inventato il mostro rosso? È sempre il mostro rosso con questi esperimenti Ma aspettate Cosa ha creato il mostro rosso? Perché questa sembra essere una torta deliziosa Ok Vinci Prendiamo questa torta La prendo io La prendo io Ok Vinci Prendiamo questa torta Oh Bella torta dei Rainbow Friends Più rara che io abbia mai visto Sì Dammi la torta No No Diavoletti la mamma di Vinci vuole la torta Ehi Giusy No 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 Cosa? Hai dato un morso? È buona? Ok L'assaggio anch'io Vinci Mi sento molto strano Vinci No 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 Anche Vinci ha dato un morso Ok Vinci ma usciamo da questo laboratorio Dai Il mostro rosso? Ok mostro rosso Abbiamo preparato la torta Adesso cosa vuoi? Uscite O mangerò tutti voi Uscite O vi mangio Ok Corriamo Corriamo Diavoletti Avete sentito? Il mostro rosso voleva mangiarci Il nostro cagnolino è nel laboratorio Oh no Oh torna qui Torna qui C'è il mostro rosso Vieni qui È uscito Chiudiamo la porta di questo laboratorio Ok Potrebbe essere molto pericoloso stare qui dentro al laboratorio del mostro rosso Ok Ok non entreremo mai più in questo laboratorio No Chiudiamo la porta Ok Il mostro rosso avrebbe potuto mangiare il nostro cagnolino Meno male che sei qui Vinci Aggiornamenti Cosa succede Cosa succede? Cosa succede? Ancora? Vinci Adesso cosa dirà il mostro rosso? Sshh Silencio Bravi Avete preparato la torta La quarta sfida è riuscire a trovare i tre pezzi mancanti per formare una stella I mostri si stanno avvicinando Sbrigatevi I tre pezzi mancanti per formare una stella? Guarda Vinci questa è una stella? Ma ci sono uno, due, tre, tre pezzi mancanti Guarda caso proprio nei colori blu, verde e arancione Ok I nostri colori Dobbiamo trovare i pezzi mancanti di questa stella? Questa sfida sarà veramente super difficile diavoletti Quindi trovando questi tre pezzettini, arancione, blu e verde, la stella sarà completata Dobbiamo subito trovare questi pezzi mancanti Esatto, ma dove iniziamo? Vinci vieni a controllare, vieni Andiamo Diavoletti Dobbiamo controllare, dobbiamo controllare dappertutto Qui dietro non c'è niente Vinci vieni qua, vieni qua Vieni, vieni Ok, vedi qualcosa qui sotto? No, non c'è niente Ok, forse sotto quei cuscini? Controlliamo, controlliamo Vedi, vedi i pezzi mancanti? Non c'è niente No, non c'è niente sotto questi cuscini Ok, andiamo avanti Giusy, attenzione, dove vai? Oh no, un mostro potrebbe attaccare Giusy Oh no, potrebbe essere molto pericoloso Giusy, dove vai? Dobbiamo stare tutti e tre insieme Giusy? Giusy? Eh, diavoletti? Oh no Giusy? Oh no, diavoletti Un mostro ha mangiato Giusy? Eh, Giusy, dove sei? Eh, oh no E se la mamma di Vinci fosse stata eliminata? Eh, cosa? Chi è che sta facendo dei rumori lì? Giusy? Sei tu? Oh, sì È qui dietro? Perché ti nascondi lì dietro? Dai, vieni Guardate, il nostro cagnolino è nascosto proprio con la mamma di Vinci Dai, venite, venite Quindi avete visto un mostro? Dai Anche il nostro cagnolino ha visto un mostro? Quale mostro era? Vieni, dai, vieni Ok, Giusy esci da qui Ok, quindi hai visto il mostro blu, il mostro arancione o il mostro verde? Il mostro verde Il mostro verde? Dove hai visto il mostro verde? Oh no Ok Era qui vicino? Sì, forse è qui dietro Cosa? Mostro verde, sei qui dietro? Anto, vedi qualche mostro verde qui dietro? No, non vedo nessun mostro verde Ok, l'hai visto precisamente dove? Qui Qui? Sì Ma non c'è nessuno? Ok, secondo me è andato via Dobbiamo pensare alla sfida, sì Guarda questo cioccolato Ok, è la faccia di un mostro? È molto pauroso Oh Mmm Ma non devo mangiare queste cose Vinci Guarda Cosa c'è qui dentro? Ho trovato i tre pezzi mancanti proprio qui dentro Ok Ok, mostro verde, Giusy Mostro blu, Anto Mostro arancione Vinci Ok, io metto il mio Guarda Vinci, ho completato Adesso Io il mio Giusy E adesso Vinci Manca qui l'arancione Vinci vai, l'ultimo, l'ultimo Cos'è questo suono? Abbiamo completato la stella? Wow È una stella La stella dei Rainbow Friends Che bello Sì, perché questo è il mostro giallo dei Rainbow Friends Il mostro verde Il mostro blu Il mostro rosso Il mostro viola E il mostro arancione Ok, mamma, ci sei? Sì Anto è lì distratto, guarda Quindi è arrivato il momento di un mega scherzo Ci nasconderemo Sì, ci nascondiamo Ok Andiamo in bagno a nasconderci Sarà uno scherzo mega epico Vinci, che fai? Niente Wow Ok, accendo la luce? Sì Il mostro blu Vinci E la mamma di Vinci Sono stati eliminati Vinci e la mamma di Vinci Sono stati eliminati? Diavoletti È la verità? Questa è la verità? Sono stati eliminati? Ehi Vinci Giusy Dove siete? Cosa? Diavoletti Qui ci sono due tombe Diavoletti Rip E c'è una foto di Vinci Mostro arancione È una foto di Giusy Mostro verde? Guardate Che cosa triste Vinci e la mamma di Vinci Sono stati eliminati? Vinci Ehi Giusy Dove sei? Dove siete? Oh no Adesso Sono scomparsi? Diavoletti Ma sono stati mangiati Da qualche mostro? Chi ha mangiato Vinci E la mamma di Vinci? Chi è stato? Chi è stato? Adesso Io Sono qui da solo Riuscirò ad uscire? Riuscirò a vincere? Io devo salvare Vinci E la mamma di Vinci Cosa? Diavoletti Adesso cosa vuole? Adesso cosa vuole? Ok Ascoltiamo Ho una sfida per riuscire Ad uscire dal gioco E riuscire a non essere mangiato Vinci e la mamma di Vinci Sono stati mangiati Alto Devi correre Devi scappare Hai 5 minuti di tempo Se i nostri ti mangiaranno 5 minuti Per trai Ho 5 minuti di tempo Per Scappare da questa Casa? Diavoletti Ho soltanto 5 minuti Ok Ma come si fa a scappare da questa casa? Ok Sicuramente ci sarà un pulsante Ci sarà sicuramente un pulsante Che mi farà vincere C'è anche il timer Diavoletti Ho soltanto 5 minuti Ok 4 minuti e 53 52 51 50 49 48 47 Il tempo sta scorrendo Il tempo sta scorrendo Ok Non devo farmi mangiare Non devo farmi mangiare Ho veramente molta paura Ho veramente molta paura Ehi Vinci Mamma di Vinci Allora è qui che sono stati eliminati Perché qui C'è la maglia di Vinci Ok Qui c'è la maglia di Vinci Ed è l'unico ricordo che c'è Oh no Dobbiamo salvare Vinci e la mamma di Vinci Solo uscendo da questo gioco Ok Come facciamo ad uscire da questo gioco? Chi c'è dietro di me? Dietro di me c'è qualcuno? Oh Mostro arancione? Cosa vuoi? Vai via! Diavoletti dobbiamo stare molto attenti La sfida è Non farsi mangiare dei mostri E abbiamo 5 minuti di tempo Oh no Speriamo di non essere mangiati Oh E' andato via E' andato via Ho pochissimo tempo Ho pochissimo tempo Oh Il timer sta scorrendo Guardate diavoletti 14 13 Ho pochissimo tempo Oh no 10 Forse Qui sotto ho visto qualcosa Questi sono dei pulsanti 1 2 3 Diavoletti Forse Questi erano i pulsanti per vincere I mostri sono andati via Hai vinto? Allora Questi erano i pulsanti per uscire da questo gioco? Diavoletti Abbiamo vinto? E meno male che ho cliccato questi pulsanti Erano proprio nascosti qui sotto Ok Abbiamo cliccato con i pulsanti E i mostri sono andati via da questa casa Oh diavoletti Dov'è la mamma di Vinci mostro verde? E dov'è Vinci? Mostro arancione Vinci mamma di Vinci dove siete? Grazie a tutti